Sono entrato di lì, questo è l'ingresso, ok, ora entriamo, anzi entriamo di qua, ok, ci siamo quasi, un po' di quadri, buongiorno, ciao, aspetta, sto facendo, ciao Fabio, arrivo, sto facendo un video, un po' di quadri, perché c'è una mostra, che mostra è? È di Fabio Favoccia, ecco, queste sono le foto di alcuni malati che c'erano prima qui, vi porto anche in un'aula i poster dei lavori, Ragazzi, guardate, lì, siccome questo non era un ospedale psichiatrico, lì ci sono le celle, questa forse è ancora chiusa, no, vediamo un attimo, no, è aperta, ecco, questa è l'aula, quella più affrescata che abbiamo, ok, ciao ragazzi, buon lavoro.